ragazzi sono il vostro gioielliere di fiducia e oggi apriamo un po di pacchi di compro ora distanza quindi gioielli che i clienti mi spediscono tutta l'italia e anche tutta l'europa andiamo bigliettini segreti tra me i miei clienti i gioielli dentro un cd wow guarda questo bellissimo e bellissima guardate incredibile stupenda poi ragazzi molti di questi prodotti che sono messi in condizioni perfette è un peccato farli fondere e quindi è già da mesi che io molti pezzi che ritiro ve li metto a disposizione sul mio sito per poterli acquistare ad un prezzo di mercato nettamente più basso al prezzo dell'usato e quindi questa crocetta qua cioè ve la metterò in vendita ovviamente a un prezzo nettamente più basso che farla nuova però è come se fosse nuova quindi andate a sguerciare poi il sito web apriamo il secondo pacco è sempre un piacere cerchiamo bene tutto bene bello pesantino bella guardate questa bicolor bene facciamo intanto il primo peso 92 grammi punto 82 4200 euro invece questi prodottini qua dove ci sono anche pietre preziose questi qua avranno una valutazione a parte infatti qui ero d'accordo col cliente che prima gli periziavo le pietre e poi trovavamo un punto d'incontro per l'acquisto quindi questo qui adesso devo periziarli in laboratorio con la mia gemmologa e poi dopo col cliente determinare una cifra però li troverete tutti sul mio sito il gioiello official.com con spedizioni in 24 48 ore in tutta italia e qualche ora in più invece per l'europa grazie a tutti